Il viaggio fra storia e mito continua. Fra i numerosi reperti egiziani derivati da un antico culto di Iside a Benevento e poi a Dublino, fra gli antichi testi su pergamena del prestigioso Trinity College e a Ischia, sulle tracce del ricercatore esoterico Giulio Grabovitz, che avrebbe ispirato i personaggi di Jules Verne. Questo e molto altro a Freedom, con Roberto Giacoppo. Venerdì, in prima serata, Italia 1.